Eccoci giunti alla terza lezione di questo corso. Voglio dire a ciascuno di voi di prendersela molto comoda perché da questa lezione ci tufferemo nel parlato, andando a studiare le varie forme di conversazione e diciamo che per chi è abituato alla semplicità delle grammatiche, alla sioma parola traduzione, la cosa potrà sembrare indigesta. La cosa importante è capire ogni frase riportata nella scheda non dalla traduzione letterale ma dal significato generale che vi riporterò ogni volta e dagli elementi in comune che può avere con altre frasi. Per esempio, kanastatu e gomahegstufeign hanno un elemento in comune. In tutte e due viene espresso il pronome di seconda persona singolare, tu, di cui ho parlato nella scorsa rang. Quindi, se vi sembra di stare assimilando tante cose, prendetevi tutto il tempo per vedere ogni pezzettino, anche tornando indietro alle prime due lezioni, e se proprio qualcosa non lo capite ricordate che tutte le cose che non specifico adesso verranno approfondite. Intanto, per adesso, io vorrei partire dall'ascolto. La cosa più importante per poter parlare bene il gaelico, per poterlo fare sentendosi a proprio agio, quando e se andrete anche voi in Irlanda, non è sapere cosa si sta dicendo, e lo so che suona strano ma non lo è. La cosa più importante è essere abituati a sentirlo, e per questo a parlarlo. Quindi, è da questo che noi partiamo, e ci immergiamo fin da ora in quel mondo abitato da persone che si esprimono in gaelico, nella vita quotidiana, nelle relazioni, nel mondo del lavoro, e anche in quello dell'informazione, come la TV, per esempio. La TV in Irlanda ha meno canali di quella italiana, credo, ma il suo punto forte è che i programmi vengono presentati sia in inglese che in gaelico, e la varietà che ne deriva è anche stilistica, spesso proprio nei temi trattati, non solo di linguaggio. Lasciando perdere la BBC, che c'è anche in Irlanda, ma se riporta cose in gaelico è solo per sbaglio, abbiamo due principali società televisive che promuovono lingua e cultura irlandesi, RTE e TNAG, che starebbe per Telefesna Gaelge, televisione gaelica. Ci soffermiamo su questa perché a differenza di RTE è tutta in gaelico, cioè la società gestisce due canali, TG-Kiachar, che vuol dire TG4, e Kula-Kiachar, per i ragazzi più giovani. Entrambi sono canali destinati unicamente a chi parla gaelico, agli abitanti dei Geldacht, per esempio, e quindi non sentirete una parola d'inglese. Però, guardare il TG-Kiachar potrebbe essere per noi una grossa opportunità di renderci conto di come suona una conversazione in gaelico, delle sfumature che si usano per esprimersi, anche delle facce che fa la gente che lo parla, insomma, il contesto, che per il nostro caso è tutto, direi. Quindi, vi lascio in fondo alla scheda un link per vedere il canale YouTube del TG-Kiachar, e intanto andiamo a vedere qualche minuto di una rubrica che, come questa lezione, è incentrata sulla Koura, la conversazione. Trovate la parola anche nella scheda perché è il titolo di un'altra nuova sezione che ho inserito, che è anche la prima. Nel servizio si parla di alberi genealogici, argomento piuttosto amato della vecchia generazione di irlandesi, e infatti la donna ha intervistata molte storie alle spalle da raccontare, ed è cresciuta in un Geldacht, della contea di Waterford, per essere precisi, in una delle due parrocchie del Geldacht, quella che è chiamata Ann Ryn. Non preoccupatevi per l'età, comunque, vedremo madrelingua di tutti i tipi, dai bambini agli anziani, per abituarci a pensare, non solo a parlare, il più possibile in gaelico. Vediamo il servizio. Grazie per l'età. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il filmato a proposito è del giugno 2013, quindi di pochi anni fa. Per dire, il gaelico che avete sentito è quello di oggi. Qui e là avrete notato che ci sono frasi che abbiamo fatto nelle prime due lezioni, come per esempio, cioè lei è moire fercer, o es misce, quando lei si presenta con quella schiera infinita di cognomi. Credo che sia un unico cognome composto, in realtà. È la forma tradizionale dei vecchi cognomi. I più perspicaci avranno colto anche foilce, perché diceva che è mille foilce, come dire benvenutissima. La frase che ho annotato anche nella sezione conversazione della scheda vorrebbe dire alla lettera centomila volte benvenuto o benvenuta, e si può dire anche a più persone. Altra formula che ho messo poco sotto è gorev mille mahagat, cioè grazie mille, cosa che dice moire in risposta al benvenuto. E l'unica cosa che cambia in questa frase rispetto a gorev mahagat, è che si aggiunge mille prima di mah, e mille in gaelico vuol dire proprio mille. Partiamo però dall'inizio del video, quando Moirchen, il presentatore, dice Ora, qualcuno magari si chiederà perché non ha detto Però, se ricordate il significato di questa formula, che è Dio sia con te, è facile intuire la ragione. È una frase che è rivolta ad una sola persona, mentre È la formula che si usa quando si vuole salutare più persone. Infatti significa più o meno Dio sia con voi La differenza sta tutta nelle preposizioni Rich vuol dire in tuo favore E solamente in questo senso con te Mentre Ripeto Vuol dire in vostro favore Il gaelico è una lingua che usa parecchio le preposizioni associandole concettualmente ai pronomi personali D'ora in avanti ne vedremo sempre di più e per adesso non ci preoccupiamo troppo dell'aspetto grammaticale Basta sapere che in una frase quella specifica preposizione ha quello specifico significato Anche perché a volte questo cambia a seconda del contesto e quindi imparare la grammatica non basterebbe Stesso discorso riguardo le preposizioni Vale per il benvenuto Come vi ho già detto nel caso del benvenuto possiamo dire semplicemente Foilce E siamo sicuri di non essere in errore Sia che ci rivolgiamo ad una persona sia che ci rivolgiamo a molte Però come avete visto anche leggendo i sottotitoli all'inizio del servizio Si può essere più specifici Si può dire Questa è la terza formula della prima sezione della scheda Foilce roat Per dire si benvenuto Questo perché la preposizione roat Significa rivolgendomi a te Guardando verso di te E si può dire Foilce roav Come dice Martin Che vuol dire siate benvenuti Perché la preposizione roav Significa invece guardando verso di voi Quindi ripeto le pronunce delle cose nuove che abbiamo imparato Giariv Foilce roat E foilce roav Un altro aspetto interessante di presentare le persone è che come in italiano si può essere generici e dire lui è Giovanni Oppure se una persona ci sta vicino si può dire questo è Giovanni Quindi andate alla quinta formula della sezione conversazione Intanto ne approfittiamo per imparare un po' di nomi gaelici E vediamo che Sean è la versione irlandese di Giovanni Così come Moire è la versione irlandese di Maria Abbiamo già imparato a dire lui è O lei è Senza neanche dover usare il verbo perché resta sottointeso Usando le formule sine e shinì Vi ricordate che vi avevo detto della parola shin Che è come dire in inglese that Infatti questa parola traduce un pronome dimostrativo Quello di lontananza o di riferimento generico Però non ha singolare o plurale E nemmeno genere Infatti lasciato da solo si potrebbe tradurre quello, quella, quelli o quelle Ed è per questo che si dice sine o shinì Perché aggiungendo il pronome e che vuol dire lui O il pronome i che vuol dire lei Si specifica il genere E come vedremo più avanti Con altri pronomi si può specificare anche se si parla di una o più persone Quindi quando diciamo per esempio Sine e Sean Noi stiamo dicendo quello è Giovanni Letteralmente E questa frase può assumere un significato molto generico Al punto che si può tradurre in italiano anche lui e Giovanni Se noi vogliamo dire Questo è Giovanni La formula è quasi la stessa La struttura non cambia Cambia solo il pronome dimostrativo che non è più shin Ma è sho Ripeto la pronuncia è sho Quindi analogamente a quanto avviene con shin Diremo Sho e Se vogliamo dire questo è E Sho i Se vogliamo dire questa è Sho e Sean Questo è Giovanni Shoi Moire Questa è Maria Passiamo ora Alla seconda succulenta parte della sezione Koura Succulenta perché finalmente avremo modo di vedere delle frasi fatte veramente utili per poter dialogare Abbiamo già visto Kedmile foilce Per dare il benvenuto in modo molto caloroso E Gorevmile mahagat Che si usa per ringraziare in modo sentito Vediamo ora come si dice per favore in irlandese Il modo più formale Quindi da usare con persone che non si conosce E Mas do hoile Ripeto Mas do hoile Basta dirlo alla fine di una frase E' corposo da dire rispetto ad un please Ma è altrettanto pratico Si può mettere dove si vuole Non mi addentro nella grammatica Ma comunque specifico che vuol dire Se ciò è tua volontà Ossia Se ciò che ti chiedo di fare corrisponde alla tua volontà Quindi in realtà più che a per favore è molto simile la formula italiana Se non ti dispiace Se non ti spiace Sul concetto del dispiacere è basata anche la formula per dire mi dispiace in gaelico Tabronorem Letteralmente Il dispiacere è su di me Sono preda del dispiacere E quindi Sono dispiaciuto In questa formula la parola Bron Vuol dire tristezza Dispiacere Mentre Orm E neanche a dirlo un'altra preposizione fusa a un pronome E vuol dire su di me Questo solo per curiosità Ultima cosa prima di passare alla successiva Tabronorm Può essere usato anche per dire scusa in gaelico Posto però che dicendo scusa Si intenda quello che si intende in inglese dicendo sorry Arriviamo quindi all'ultima frase Neal a yes a gum Ripeto Neal a yes a gum Che vuol dire non lo so La frase si dice esattamente come l'ho detta Neal a yes a gum E per rispondere a quello che vi starete tutti chiedendo non ho sbagliato a scriverla io nella scheda Semplicemente c'è una parte che non si scrive Una a che precederebbe la parola fierce Che vuol dire saggezza Sapere, consapevolezza E che causerebbe shé vu in questa parola Vi ricordate cosa vuol dire shé vu? In questo caso la a di cui parlo si dice soltanto e non si scrive E nello scritto quindi Sparisce la causa della shé vu Dell'allinizione E rimane l'effetto Che sarebbe scrivere f h Al posto di f Detto questo Forse avete iniziato a capire perché ci vado piano nell'affrontare la grammatica gaelica In effetti per ora direi che meno sapete e meno confusione fate Nel senso che bisogna fare piccoli passi uno alla volta Ah, il significato letterale di Neal a yes a gum Sarebbe non possiedo la consapevolezza di ciò Il modo in cui questo è strutturato grammaticalmente E' incredibile per ora a riguardo io direi solo questo Quindi abbiamo un po' di sostanza per esprimerci A questo punto Se uno ci domanda in gaelico un'informazione per strada Possiamo sempre fare bella figura e dire Oppure se io domandassi a uno di voi Potreste rispondere Quindi mi dispiace non me la ricordo Al che io vi direi Cioè rivedila se ti va Non so se avete notato anche da questa frase Ma il per favore in irlandese Viaggia veramente su un'altra lunghezza d'onda rispetto all'italiano Stiamo dicendo una cosa diversa E quindi l'uso che ne facciamo non corrisponde alla perfezione A quello che ne faremmo parlando in italiano A volte si mette anche in posti diversi Passiamo velocemente a ripassare i saluti Biennachti Perché anche qui ci sono cose importantissime da dire Abbiamo visto che il presentatore del TGKR Dice Giarriv Ma i più attenti l'avranno forse capito Lo fa dicendo qualcosa prima Non dice solo Giarriv Quello che dice è Che vuol dire Dio vi benedica Ora La cosa è veramente imbarazzante Perché mi andrebbe in confusione anche il più incallito dei linguisti Dovete sapere che in gaelico per dire Dio ti benedica Si dice È una frase fatta Grammaticalmente è strutturata così Analogamente per dire Dio vi benedica Si dice Queste due frasi Hanno di particolare che Per una coincidenza grammaticale Contengono la formula Giarrich E la formula Giarriv Quindi In ragione di questa particolarità È diventato un uso corrente in occasioni formali Dire Gommiani Giarrich Oppure Gommiani Giarriv Al posto del saluto normale Noi lo vediamo per curiosità Ma non usate questa frase A meno che non siate conduttori televisivi O siate davanti al presidente Poi Altra cosa da fare È imparare a chiamare le persone Siccome la cosa è complicata Direi che per adesso ci proviamo solo con i nomi Che abbiamo già usato Nella sezione conversazione Moire Moire E Sean Il problema in questo caso È che in gaelico Quando si chiama direttamente qualcuno per nome Bisogna sempre usare la versione vocativa del nome In questo caso le grammatiche dicono che il nome Sia comune che proprio È declinato al caso vocativo Perché è un vero e proprio caso In gaelico esiste una declinazione Come in latino E la vedremo più avanti Quello che diciamo noi per adesso invece è molto più semplice Per chiamare qualcuno Si prende il suo nome proprio Ci si mette una A davanti E questa A causa Che vu Cioè lenisce la consonante con cui il nome inizia Sarete anche felici di sapere che invece non succede proprio niente Se il nome inizia per vocale La chè vu In quel caso non si applica Tornando però a quando si applica Ricorderete che a livello grafico La lenizione consiste nell'aggiungere una H Alla consonante iniziale del nome Ricorderete anche che la pronuncia di suddetta consonante Poi cambia Vedete nella scheda le varianti lenite dei nomi Moire e Sean Guardate come si scrivono E la pronuncia con il vocativo è Awoire e Acheung Ripeto Awoire e Acheung Quindi se avete la fortuna di essere salutati da una persona che si chiama Moire o Sean Potete dire Io adesso l'ho detto con la pronuncia un po' più del Connemara Si direbbe Oppure Non vi preoccupate per la I In fondo la parola E' una regola del vocativo per cui il nome a volte compare così Voi per adesso datevi all'imitazione selvaggia della mia pronuncia e vedrete che se la imitate alla perfezione anche un vero irlandese sospetterà che siate madrelingua Io lo scherzo gliel'ho fatto a qualcuno quando ero in Irlanda Continuiamo in perterriti ad approfondire i modi in cui possiamo rispondere a qualcuno quando ci chiede come stiamo Che è la parte successiva della conversazione Abbiamo imparato a dire Go ma Però vi dicevo Si può anche essere pessimisti in merito alla propria salute Cominciamo intanto imparando a dire Io sto Per poter poi dire Io sto bene Vi ricordate il verbo Ta Che si usa come copula dell'aggettivo Per descrivere le qualità di un nome Ecco questo ta Si usa anche per dire Come una cosa si presenta O come una persona sta Dire ta she E' come dire in inglese it is Mentre dire ta me E' come dire in italiano io sono In questo caso il soggetto è Me Che vuol dire io E si mette sempre immediatamente dopo il verbo In Irlanda si usa molto dire Ta me go ma abu ya chas le jia Cioè grazie a Dio sto bene Oppure se siamo veramente felici Diremo Ta me go hun tach Cioè sto una meraviglia Sto meravigliosamente E non dimentichiamoci di usare una certa etichetta Che vuole che a frasi del genere Segua un ringraziamento O un interessamento Quindi in questo caso Completiamo la frase dicendo Ta me go hun tach go ra ma ha gat Ripeto la pronuncia Ta me go hun tach go ra ma ha gat Se stiamo così e così Invece diremo Ta me chiat go lior Sto abbastanza bene Ripeto anche qui la pronuncia Ta me chiat go lior Se proprio non pensiamo di stare bene Allora ecco la frase che fa per noi Ta me go dono Questi che sto dicendo sono tutti avverbi Li vediamo meglio più avanti Per esempio Dona vuol dire cattivo E godona vuol dire male Come vi avevo accennato Basta mettere la particella Go davanti all'aggettivo Per formare l'avverbio corrispondente Ultimo caso Se siamo in doposbornia Perché abbiamo passato la sera precedente A tracanare Guinness Cosa che essendo in Irlanda Può anche capitare Allora possiamo dire Ta me go hun tach Che vuol dire sto da schifo Ripeto la pronuncia Ta me go hun tach Siamo arrivati alla sezione folklore Vocabolario Per la nostra rassegna di termini utili Abbiamo questa volta Bord Kahir Chiaru E l'aggettivo Rue Ripeto le pronunce Una per volta Bord Kahir Chiaru Rue Gli ultimi due li sentite anche nel video Nella rubrica Infatti il presentatore parla di Anchiaruruva Il quartiere rosso della parrocchia Dove abita Moire Fairchair Avete notato che la parola Chiaru riceve Sheibu? Ecco questa volta Non abbiamo la sezione grammatica Però vi accenno già Una cosa importante In gaelico il nome Intendo dire il sostantivo Ha sempre due generi Può essere o maschile O femminile Questo purtroppo Non viene segnalato dal finale di parola Come in italiano Ma abbiamo modo di capire Se un nome è maschile O femminile Quando è presente l'articolo Abbiamo già visto che l'articolo è An E come vi ho già detto Se il nome che precede è singolare E non si trova al caso genitivo Questo ve lo dico adesso Non cambia mai Però Ha una sua certa utilità Perché per regola Causa Sheibu Nella consonante iniziale Di tutti i nomi femminili Segnalando che sono di genere femminile Ora Noi siamo solo all'inizio Della comprensione Di un meccanismo come questo Però qualche esempio Si può già fare Per esempio Board Tavolo È un termine maschile Quindi per dire Il tavolo Si dirà Anboard Tranquillamente Senza che succeda niente Ma Kiahru Vuol dire quartiere Ed è invece Un termine femminile Quindi oltre a mettere L'articolo Aggiungeremo Una H Dopo la C Iniziale Della parola E pronunceremo Il tutto Ankiahru Gli aggettivi in gaelico Seguono sempre Il nome che descrivono Quindi per dire Il quartiere rosso Diremo Ankiahru Rua Velocissimamente Facciamo la sezione Del tempo atmosferico Stavolta Abbiamo fatto parecchio Di tutto il resto Quindi l'ho dovuta ridurre Ad una sezione lampo Per così dire Diciamo solo In aggiunta A quanto detto Nella Ranga Do Che per dire Sta piovendo Si dice Ta-she-a-kur-ba-ish-ci Ripeto Ta-she-a-kur-ba-ish-ci Letteralmente significa Il cielo sta mandando piogge Anche se la parola cielo È sottintesa Nel soggetto She Che ha lo stesso ruolo Dell'inglese It Abbiamo finito Speriamo che sia stato Pacevole anche per voi Consiglio caldamente Di rivedere gli appunti Delle scorse lezioni Per capire meglio questa E anche perché Siamo partiti da cose Che avevamo già fatto Mi avevate chiesto La pronuncia Del mese di dicembre Che come vedete È il nuovo mese Di riferimento Anche nella scheda Andate su In alto Nell'intestazione Si dice Nolik Nolik Detto questo Vi saluto Slanegskoramagov Grazie per avermi seguito Anche questa volta Probabilmente Con tutte queste nuove nozioni Vi ho convinto A non farlo più Speriamo di no Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima